sicuramente ti stai chiedendo cosa cazzo fa questo coglione in camicia coricato su un letto in una stanza senza muro cosa sta facendo? qual è il suo obiettivo? perchè ho aperto questo video? bene, questo video genuinamente, genuinamente ti potrebbe cambiare totalmente la vita e non sto scherzando, questo è uno dei video più importanti del mio canale è uno dei messaggi più importanti che io ti voglio dare e se ti sembra stupido quello che sto facendo, ascoltami fino alla fine anche se questo video non sarà minimamente editato negli altri video dico che non editerò, dico che non faccio questo o quell'altro ma poi in realtà qualche taglio lo faccio non è un editing pesante, questo video letteralmente sarà caricato così come lo sto registrando già mi sta facendo male, mi sta facendo male per il telefono e ti voglio dare un consiglio uno dei consigli più importanti uno dei consigli più importanti che tu possa mai sentire in quei video super editati di tutti gli altri youtuber con 10.000 iscritte che tu lo guardi e fai wow e stai lì in collato allo schermo e non vedi l'ora di vederne altri di vederne sempre di più tutti quei video non ti daranno mai l'informazione che ti sto per dare voglio darti un consiglio se tu vuoi fare un qualcosa vuoi arrivare a un obiettivo hai in mente una situazione B che vuoi raggiungere e tu adesso sei nella situazione A per esempio vuoi arrivare a 10.000 euro al mese vuoi arrivare alla situazione B adesso la tua situazione è magari stai lavorando a un lavoro normale un lavoro dove ti danno 1.000 euro al mese da dipendente devi fare delle azioni per arrivare alla situazione B quindi ti poni come obiettivo ok devo fare questo, quest'altro oggi devo registrare i tot video se per esempio vuoi arrivarci con YouTube oppure oggi devo contattare 100 clienti oggi devo rispondere a 10 mail eccetera eccetera ecco c'è una cosa che nessuno ti dice che ti permetterà di arrivare ai tuoi obiettivi anche quando non hai voglia di fare queste azioni io oggi non avevo voglia di registrare il mio video il mio obiettivo che mi ero prefissato era caricare un video al giorno su YouTube creare una forte community una community di persone che vogliono lottare vogliono combattere vogliono impegnarsi per diventare la migliore persona in loro stessi che non gli sta bene il mondo odierno che vogliono riuscire a creare il loro business online che vogliono riuscire nella loro crescita personale abbandonare tutte le abitudini negative e fare tutte le abitudini positive in maniera che la loro vita sia perfetta il più possibile al 100% bene tu ti starei chiedendo ok questo obiettivo Brunf e per riuscirci ti sei dato come come compito giornaliero di caricare un video al giorno su YouTube non è l'unico compito che ho solo che oggi non mi andava di caricare quel video oggi non mi andava di registrare e ho detto che faccio quindi non carico niente no ho preso il telefono e letteralmente mi stanno caricato dal mio letto e sono a casa di mia nonna tra l'altro nemmeno il mio letto perché ero qui non volevo muovermi non volevo aprire le luci mettere il green screen ring light il microfono editare l'audio eccetera eccetera quindi che ho fatto ho detto no non faccio il video abbandono no sto facendo un video semplicemente di peggiore qualità però che ti può dare tantissimo ma tantissimo valore quando non hai voglia e questo è il consiglio che ti devo dare quando non hai voglia di fare un qualcosa quando non hai voglia di fare l'attività che ti sei preposto presentati hai sentito bene hai capito bene presentati e basta per esempio ti sei messo come obiettivo quello di andare in palestra tutti i giorni per un'ora al giorno un giorno non hai voglia presentati vai in palestra semplicemente presentati vai lì non fare niente entra ed esci perché sei lì iniziai a voler fare qualcosa e te lo posso garantire perché io questo video lo volevo fare durare un minuto ma dato il fatto che sto continuando a parlare dato il fatto che ho avviato il video aspetta che mi stanno facendo male le mani mi alzo mi alzo il fatto che ho avviato questo video io sto ancora parlando anche se questo video doveva durare un solo minuto sta durando un minuto no siamo a sei minuti ti sto dando zero valore no forse ti sto dando più valore di quei miei video che vedi tutti i giorni col green screen con la luce e la ring light presentati non stare fermo non dire ok oggi salto faccio domani perché se tu salti un giorno sarà difficile l'indomani riprendere quell'attività se tu salti due giorni sarà quasi impossibile riprendere quell'attività se quell'attività non è diventata un'abitudine costante nella tua vita da anni e anni se tu ti sei preposto all'obiettivo di fare un video al giorno non non fare il video perfetto ogni giorno un giorno magari carica un video di un minuto ma fallo fallo comunque non deve essere perfetto è quello che sto facendo io adesso bro e questa cosa ti cambierà la vita perché riesci a instaurare delle abitudini a lungo termine domani i video torneranno alla normalità non farò più video così però non ho saltato il giorno non ho saltato un giorno ho mantenuto quella la mia promessa quello che avevo detto è il mio piano che avevo ideato per arrivare dove volevo aspetta pulisco la fotocamera presentati bro ti faccio vedere visto che ci siamo faccio gli esercizi faccio il futuro che è il figlio di padre Pio non lo so guarda questo grafico non so se lo vedrai bene questo per un altro video questo è tipo la mia tana il mio covo che mi sono fatto a casa di mia nonna per riuscire a essere produttivo e isolato da tutti fanculo quelli la a Dubai che cazzo vai a fare a Dubai bro io vengo 30.000 euro al mese e sono con una fottuta camicia sempre uguale a casa di mia nonna con le mattonelle che si stanno staccando Dubai per buttare i soldi e per farti distrarre dalle cazzate lasciamo perdere comunque se vuoi sapere come sono arrivato da 0 a 30.000 euro al mese e come sto scalando e sto arrivando a cifre molto più importanti ho fatto una lezione gratuita per te la trovi qui sotto nel link in descrizione una lezione completa la hai tutto quello che ti serve e ripeto è gratuita devi mettere la tua email si è vero mi dirai non è gratuita devo mettere l'email si devi mettere l'email per entrare poi se vuoi ti lascio passato in descrizione anche il mio programma formativo privato il programma formativo migliore che esiste in Italia vai a vedere cosa si tratta e lo dico sempre se tu puoi provarmi il contrario mi provi che esiste qualcosa di migliore in Italia di qualsiasi persona anche 100 volte più famose di me se tu mi provi che lui ha un programma migliore del mio io ti rimborso il costo e non sto scherzando lo faccio non esiste una qualità del genere da nessuna parte non esiste una qualità del genere da nessuna parte spero che questo video ti sia piaciuto iscriviti attiva la campanellina per non perderti il prossimo valore che ti voglio dare valore perché questo non è un video è un valore proprio io non capisco come tu faccia a non capirlo giro di parole presentati mi raccomando mi raccomando